L'avvento delle nuove tariffe relative alla tassa su rifiuti ad Alcamo non porta soltanto rincari e mugugni. Il nuovo piano, infatti votato ed in parte emendato in Consiglio Comunale ieri sera, con modifiche quindi apportate al regolamento che diventano esecutive, prevede una serie di sgravi che potranno incidere in maniera significativa e principalmente per commercianti ed imprenditori. Importanti abbattimenti sono previsti per i negozianti del centro storico, per le imprese che operano all'interno di capannoni industriali e arrivano anche gli sconti per quelle attività che faranno meno delle infernali e tanto discusse slot machine. Il ventaglio degli abbattimenti è davvero ampio, in alcuni casi valido sia sulla parte fissa che variabile, in altri casi invece solo su quella variabile. La filosofia di questa amministrazione, per le leve che può azionare sicuramente a livello locale, è stata quella di premiare chi effettivamente rischia sul territorio. E soprattutto abbiamo cercato di dare uno slancio all'economia reale, muovendo sia i coefficienti, sia le leve delle agevolazioni, alcune previste per legge, altre previste espressamente dal nostro bilancio con dei capitoli ad hoc. Di una riduzione del 50% ne usufriranno i titolari dei negozi del centro storico, sia quelli esistenti, sia quelli che eventualmente decideranno di insediarsi prossimamente. Provvedimento che rientra nel quadro della famosa detassazione pensata per quei negozi che proprio nel centro storico sostengono di vivere una fase di grave crisi connessa alla presunta chiusura del tratto iniziale di corso 6 aprile dall'intersezione tra le piazze Bagolino e Ciullo. Importante novità introdotta per i capannoni in cui operano le imprese ed in questo caso l'occhio di riguardo principalmente è rivolto all'area artigianale di Contra Dassasi che è in possesso di grandi superfici dai 500 metri quadri in poi pagherà con un abbattimento del 50% dell'importo. Una grande mano d'aiuto arriva invece per le imprese cosiddette start-up che prevalentemente sono guidate da giovani. Si tratta di attività che hanno, quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Per loro addirittura non è previsto alcun pagamento della Tari, taglio del 20% anche per le imprese onlus o affini che dimostrano di svolgere attività di distribuzione di genere alimentari a fini benefici, quindi per indigenti. Stesso tipo di sconto poi per i locali che invece dismetteranno le slot machine, le cosiddette macchinette da gioco ad azzardo, vietate ai minori di 18 anni e che creano pericolosa dipendenza patologica, come è dimostrato scientificamente, il cui fenomeno incide pericolosamente su Alcamo in base all'ultimo studio effettuato dal CERT, il centro per le tossicodipendente gestito dall'ASP. Per chiudere con le novità cambiano anche i tempi di pagamento delle tre rate. La prima sarà a maggio con un acconto del 40% da liquidare, la seconda a settembre e il saldo a dicembre.